Il mare è dall'alto, dove si vede meglio l'effetto dei cambiamenti climatici. L'occhio che osserverà dallo spazio l'innalzamento dei mari è quello del satellite Sentinel-6, poco più di una tonnellata di peso, mandato in orbita con il razzo Falcon 9. Il lancio è avvenuto alle 18.17, 9.17 ora locale, dalla base aerea Vanderberg Air Force in California. 3, 2, 1, 0. Uniteri in accelerazione, negli ultimi anni il tasso medio di crescita è stato di 4.8 l'anno.